Questo video inizierà con una vibrazione Ciao a tutti Da quanto tempo è che non ci sentiamo? Cioè io ci sento Noi ci sentiamo, ma non ci sentiamo fra di noi Allora intanto buon Natale Buon Natalo Buon Natalo Buon Natalo Buon Natale Buon Natale, felice anno nuovo Buona Befana Buon rinizio scuola E' tutto, abbiamo saltato tutte le feste Perché siamo qua E intanto che vlog è? Che vlog? Che vlog è? Numero 6 5 6 6, vlog 6 Siamo qua per annunciarvi un paio di cose E' passato un anno Da quando abbiamo aperto il canale E siamo stati sia o no attivi Dal 2014 Da quest'anno saremo attivi 24 ore su 24 7 giorni su 7 31 mesi al giorno Festivi compresi 31 mesi al giorno 31 giorni al mese Cosa succederà? Abbiamo pensato Più che altro io ho pensato Di fare un nuovo format Il The Piros Show Lui non ne sa niente Dai non avevo ancora detto niente La scopri insieme a voi Però io avevo detto Che praticamente Ci sarà questo video Penso una volta a settimana Non promettiamo niente Però una volta a settimana Dove faremo una piccola scenetta Tipo cabaret Per chi non sapesse che cosa sia il cabaret Tipo mio fratello Il cabaret è tipo colorato Zelig E i monologhi Faremo dei monologhi divertenti Dei sketch divertenti Più ovviamente i video I video ufficiali Ma E abbiamo anche in mente Di fare un video su chat roulette Un po' particolare Comunque Ma passiamo alle risposte Alle vostre domande Prima domanda Come mai fate questi video? Facciamo questi video Perché ci divertiamo E vogliamo far divertire Anche le altre persone Almeno ci proviamo Seconda domanda Cosa fai in una giornata di pioggia? Dormi Terza domanda Conosci il tubero? La patata Sì che lo conosco E anche bene Domanda Da mettere nel video Dite velocemente Due punti Supercalifragilist Ah velocemente Supercalifragilist Per cinque volte Supercalifragilist 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 Ho cagato bene per due volte Ho cagato bene Ho cagato bene Ho cagato anche troppo Come si chiama la vostra cagnolina? Allora Il nome della cagnolina Metteremo qua una foto di Sasha nei suoi momenti migliori Il nome gli abbiamo dato io e lui All'inizio si doveva chiamare Sheila Solo che ho detto no, si deve chiamare assolutamente Sasha In onore di Sasha Gray Chi non conoscesse Sasha Gray mettiamo una foto nei suoi momenti migliori qua Quando cari come sulla connessione a internet Quando caricherete il nuovo video non vedo l'ora di vederlo Il nuovo video sarà quello di chat roulette e lo registreremo in casa nostra Nella mia camera lo faremo lunedì sera poi ci sarà il video del nuovo format e a San Valentino ci sarà il video di San Valentino E adesso passiamo ai saluti Allora salutiamo Giovanna E non è vero che è un brutto nome Pensa se ti fossi chiamata Astrubala E salutiamo Ingrid 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 Speranza Ingrid Ingrid O Piroz92 O Piroz92 Che sarei io E con questo è tutto Vi ricordiamo comunque di iscrivervi alla nostra pagina facebook e al nostro canale youtube Per non perdere tutti gli aggiornamenti Se volete farci qualche domanda su Ask noi ci siamo Qualche domanda oppure volete essere salutati Mettiamo lì in descrizione Tutto in descrizione, vai, proprio così, a manetta E ci rivedremo molto presto Ciao Volevamo dedicare anche un pensiero a tutte le persone che sono state coinvolte nell'alluvione Nella zona che va da Bastiglia a Buonporto Che è molto vicino a dove abitiamo noi Infatti diciamo che abbiamo avuto culo, tra virgolette Da quello che stiamo leggendo Sembra che piano piano stanno chiudendo tutte le falle E sperando che la vita riprenda normalmente il prima possibile